Anticipazioni Terra Amara. In queste puntate vedremo Demir scoprire una spaventosa verità su suo padre, che lo traumatizzerà pesantemente. Siete pronti a scoprire cosa succederà? Iniziamo. Fekeli e Fikret sono seduti in silenzio, ognuno con i propri pensieri. Fekeli è preoccupato per Fikret, che è diventato sempre più ossessionato dalla sua vendetta contro Demir. Fikret, invece, è combattuto tra il desiderio di confessare la verità a Fekeli e la paura di perderlo. Finalmente, Fikret prende coraggio e dice a Fekeli. Adnan Yaman era mio padre. Fekeli è sconvolto. Non può credere a quello che sta sentendo. Fikret gli racconta che sua madre glielo ha confessato sul letto di morte e che ha trovato una lettera di Adnan in cui ordinava alla madre di non affibbiargli il figlio. Fekeli è distrutto. Non può credere che il suo fratello minore, che credeva morto da anni, sia ancora vivo. E soprattutto, non può credere che Adnan sia il padre di Fikret. Fikret continua a raccontare a Fekeli la sua storia. Gli racconta che suo padre, Musa, era un giocatore d'azzardo che spesso lasciava la moglie e il figlio senza cibo. Sua madre, allora, era andata a lavorare nella casa di campagna di Adnan Yaman. Fekeli è sempre più sconvolto. Non può credere che Adnan abbia fatto una cosa del genere. Fikret conclude dicendo che non importa se Adnan abbia violentato sua madre o l'abbia semplicemente ingannata. In ogni caso, ha rovinato la loro vita. Fekeli è in silenzio per un momento. Poi, si alza e abbraccia Fikret. Gli dice che lo ama e che sarà sempre al suo fianco. Fikret è sollevato. Finalmente, può essere se stesso. Non deve più nascondere la verità a Fekeli. Demir si sta rivestendo nella camera di Umit quando lei gli chiede di restare. Lui le risponde che non può, perché a casa sua Zulia potrebbe preoccuparsi. Le promette che la prossima volta si fermerà da lei tutta la notte. Fikret racconta a Fekeli che suo padre, Musa, era un giocatore d'azzardo che spesso lasciava la moglie senza cibo. La donna, per sopravvivere, era andata a lavorare nella casa di campagna di Adnan Yaman. Fekeli è sconvolto dalla notizia e gli dice che suo fratello era un uomo cattivo. Fikret gli risponde che sa che Adnan viveva ad Ankara e che era sempre indebitato. Fekeli gli chiede se Adnan ha violentato sua madre, ma Fikret gli dice che non importa se l'ha violentata o ingannata, perché ha rovinato la loro vita. Umit è rimasta sola nella sua camera e si sente agitata per quello che sta facendo con Demir. Prende la foto di lui con Sevda e, fissando proprio Sevda, si accusa di essere diventata come lei. Scaglia la foto a terra. Sevda è rientrata a casa e sta leggendo la lettera scritta da Fikret che ha trovato in macchina. La lettera dice che Adnan è un uomo senza onore e crudele. Sevda va da Demir e gli dice che sa che ha letto la lettera che gli ha lasciato sulla sua scrivania. Gli dice che non vuole un centesimo della sua eredità, ma che deve sapere che suo padre è vissuto sfruttando i poveri e gli indifesi. Deve accettare che vengono entrambi dal suo stesso sangue sporco. In quel momento rientra Demir che vedendo la turbata le chiede cosa sia successo, e vedendole la lettera che stringe in mano gliela strappa e la legge. Sevda sconvolta gli chiede se sia vero e Demir le risponde che è falso, e che stanno cercando di calunniare suo padre. Richiamata dalle urla di Demir arriva Zuleyha e Sevda le spiega che qualcuno sostiene di essere il figlio di Adnan. Demir vuole strappare la lettera ma Zuleyha la legge e glielo impedisce dicendo che con le lettere in mano si possono sporgere delle denunce. Demir afferma di essere sicuro che voglia solo dei soldi e che lo troverà. Ma Zuleyha gli ribatte che lui vuole diffamare Adnan. Poi Sevda dichiara mentendo che ha trovato la lettera sotto la porta di casa. Demir è sconvolto che una persona sia potuta entrare nel suo ufficio e nella sua tenuta. Intanto Fikret racconta a Fekeli di ricordare che Adnan ha cacciato lui e la madre dalla sua casa, ma crescendo ha voluto dimenticare tutto. Poi gli dice che dicono che Demir sia forte e coraggioso come il padre, e sia il suo unico figlio ma non è vero, perché anche lui è suo figlio anche se lo ha fatto vivere come un bastardo e ora dirà a tutti la verità. Fekeli gli risponde che Adnan è morto da molto tempo e non serve calunniare, ma Fikret gli risponde che ritiene Demir responsabile. Fekeli sbalordito gli chiede cosa centri Demir che a quel tempo era solo un bambino, ma lui gli ribatte che ha sempre pagato solo lui per gli errori di Adnan e adesso tocca che a pagare sia Demir, che deve essere costretto ad ammettere che suo padre era un bastardo e poi rinnegarlo. Fekeli gli risponde che l'odio non gli porterà mai la giustizia, ma Fikret furente gli ribatte che non avrà pace fin quando non si sarà vendicato e se ne va senza ascoltare i suoi richiami. Il giorno seguente, Fekeli si ritrova con Mushgan e, cercando di coprire l'assenza di Fikret, inventa una scusa. Successivamente, abbracciando Kerem, gli confida di essere la sua unica speranza. Nel frattempo, Sevda si reca in cucina da Saniai e Gaffur per informarli che Uzum deve essere registrata come loro figlia e ottenere un documento di identità per evitare problemi burocratici. Saniai si arrabbia con Gaffur per non aver ancora risolto la situazione di Uzum. Nel frattempo, Demir, furioso, discute con Zuley a riguardo alla lettera. In quel momento, Sermin entra e sente tutto, raccontando a Demir del ricatto. Zuley a risponde che non può essere vero, poiché suo zio era una persona onesta e qualcuno sta cercando di estorcergli dei soldi. Zuley a chiede a Demir di pagare per far tacere l'autore del ricatto, ma lui rifiuta e la prega di mantenere il silenzio. Demir si reca da Fekeli e gli consegna le lettere anonime ricevute, svelando che l'autore è una persona vicina a loro che ha distrutto la tomba di suo padre e ha sprecato tonnellate di latte. Chiede il parere di Fekeli, riconoscendo la sua sincerità anche quando erano nemici, e comprendendo perché sua madre lo amava così tanto. Fekeli, considerando Demir come un figlio, gli consiglia di non farsi guidare dalla rabbia, ma di ragionare lucidamente. Inoltre, rivela che Adnan amava divertirsi e che ciò ha causato sofferenza a Ankar. Demir risponde che nella vita di suo padre c'erano molte donne e che questo ricatto finirà in tragedia. Fekeli lo interrompe, invitandolo a rimanere calmo, poiché la verità può avere due facce. Demir afferma che, se scoprisse che suo padre è stato la persona descritta nelle lettere, lo rinnigherebbe. Arriva Fikret e Fekeli gli chiede se è stato lui a scrivere la lettera. Fikret, a sua volta, gli chiede se è Demir che è andato a chiedergli aiuto. Fekeli gli ribatte chiedendogli perché non ha detto tutto a Demir guardandolo in faccia. Invece di introdursi a casa sua, Fikret risponde che Adnan non è stato onesto e che nemmeno lui lo sarà, rovinando la vita di Demir. Quindi gli dice che si separerà da lui perché non vuole coinvolgerlo nella sua lotta contro Demir, anche perché non è suo nipote. Fekeli gli risponde che per amare non sono necessari vincoli di sangue e, infatti, lo chiama figlio. Dopo la morte di Ilmaz, ha già perso tre figli e gli chiede di rinunciare alla vendetta. Fikret ribatte che non rinuncerà e gli intima di non intralciarlo. Fekeli si infuria e lo avverte che lo troverà sempre sulla sua strada. Nel frattempo, Demir giunge nel suo ufficio e scrive una lettera in duplice copia, probabilmente inerente alle lettere anonime, e dice alla segretaria di farle recapitare. Nel frattempo, a Villa Yaman, Saniai, Gult e negli altri inventano una scusa per far incontrare e riappacificare Fadik con Rashid. Saniai le dice che può stare tranquilla perché hanno fatto delle ricerche e Rashid non risulta sposato. Fadik decide di perdonare. E così viene subito celebrato il rito dello scambio degli anelli, con tutti i presenti che festeggiano gioiosamente. Nel frattempo, all'ospedale, Umit si avvicina a Mushgan per esprimere le sue condoglianze per il lavoro che ha svolto come primario in passato. Durante la conversazione, Umit rivela a Mushgan di non essere a conoscenza del fatto che lei non aveva richiesto di prendere il suo posto e che non sapeva nulla di lei. Mushgan ringrazia Umit per le sue parole e gli confessa di ammirare il suo lavoro. Umit propone a Mushgan di dimenticare il passato e di diventare amiche. Le due donne decidono di pranzare insieme e si divertono a condividere i ricordi dei loro giorni universitari. Durante il pranzo, parlano anche dei loro genitori. Umit confida a Mushgan di non aver mai conosciuto sua madre e di come suo padre si sia sposato e divorziato più volte. Mushgan, a sua volta, racconta a Umit che i suoi genitori sono divorziati e che ha perso suo padre, mentre sua madre vive negli Stati Uniti. Umit commenta che entrambe hanno vissuto senza l'amore di una madre. Successivamente, Mushgan condivide con Umit il dolore che ha provato nel passato, quando veniva trascurata dai suoi genitori a causa dei loro impegni. Umit le fa notare che le loro vite sono state molto simili e quella serata assegna l'inizio della loro amicizia. Così terminano queste anticipazioni. Cosa ne pensi? Scrivilo nei commenti. E se sei curioso di scoprire cosa succederà nelle prossime puntate, scrivi nei commenti. Voglio il continuo. E presto uscirà un nuovo video.